Il male della guerra si allarga ma non dobbiamo mai rassegnarci così il Cardinale Zuppi in apertura dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, coesione in Europa, lotta alle diseguaglianze, fedeltà al Papa, i temi toccati dal Presidente della CEI. La Marina Militare Italiana è pronta a partecipare a una missione dell'Unione Europea nel Mar Rosso, lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani a Bruxelles. L'estrema destra tedesca apre all'ipotesi di un referendum per l'uscita dall'Unione Europea. La Brexit è un modello per la Germania, le parole della leader del partito AFD. E' morto Gigi Riva, il più prolifico attaccante della storia della nazionale italiana, simbolo del Cagliari, aveva 79 anni. Le 20.31 ben ritrovati negli studi del TG 2000. Dunque in apertura le parole del Cardinale Zuppi, non dobbiamo rassegnarci alla guerra, ha detto aprendo i lavori del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. Il Presidente inoltre ha espresso preoccupazione per l'aumento delle diseguaglianze sociali e ha invitato la Chiesa a non lasciare solo il Papa. Nicola Ferrante. Chiedere la pace e dare speranza all'Italia indica due priorità il Cardinale Matteo Zuppi all'apertura del Consiglio Episcopale Permanente CEI, riunito fino a mercoledì. Non possiamo non esprimere forte preoccupazione per l'escalation di odio, di violenza che in Ucraina e Medio Oriente, in moltissime altre parti del mondo, sta seminando morte e distruzione. E chi parla di pace è come se gridasse del deserto. Questo vuol dire che dobbiamo rassegnarci mai. L'altra priorità legata alla situazione paese con la divaricazione fra chi è povero e chi è benestante, lo si nota, dice il Cardinale, dall'accesso ai beni fondamentali come cibo, servizi sanitari, medicine, diseguaglianza sociale di genere, con le donne che guadagnano meno degli uomini per le stesse mansioni. In vista del rinnovo del Parlamento europeo, il Cardinale incoraggia la coesione fra paesi dell'Unione, oltre i nazionalismi, in un tempo segnato, dice, da senso di spesamento, declino e rassegnazione anche nelle comunità ecclesiali. La Chiesa è chiamata invece a rispondere alla sete di senso, specie dei più poveri. Non facciamoci intimidire dalle ture della Chiesa che interpretano la nostra azione come politica. Siamo aperti al dialogo, ma non ci lasciamo dire da altri quale sia il contenuto dell'azione caritativa o della missione, che non sono mai di parte, perché l'unica parte della Chiesa è Cristo. Non lasciamo solo il Papa nel Ministero di Pace, esorta ricordando lo Statuto CEI in cui si ribadisce il legame che unisce la Chiesa in Italia al Pontefice, una sottolineatura a pochi giorni della posizione espressa da altri episcopati, soprattutto del continente africano, che pur ribadendo comunione con il Pontefice, si sono dichiarati contrari all'applicazione della dichiarazione fiducia supplicans sulle benedizioni alle coppie irregolari. Documento spiega invece il Cardinale Zuppi che si pone nell'orizzonte della misericordia senza mettere in discussione il significato del sacramento del matrimonio. È il valore pastorale della verità cristiana che è sempre finalizzata alla salvezza e Dio vuole che tutti siano salvi. E quindi compito della Chiesa interessarsi di tutti e di ciascuno. Non possiamo dimenticare che tutti i battezzati godono della piena dignità dei figli di Dio. L'Italia è pronta a partecipare alla missione militare per garantire la sicurezza del traffico nel Mar Rosso. Se ne è discusso oggi a Bruxelles, Fabio Bolzetta. La Marina Militare Italiana è pronta a partecipare ad una missione dell'Unione Europea nel Mar Rosso. Le parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, pronunciate a Bruxelles, danno conto della proposta di Italia, Francia e Germania al Consiglio Affari Esteri per una missione militare europea per garantire la sicurezza del traffico marittimo. Potrebbe comprendere anche l'operazione Agenor già attiva a livello europeo nello stretto di Hormuz. Per i governi delle tre capitali europee si tratta di una missione difensiva in linea con la Convenzione ONU sui diritti del mare. Per il Vice Premier Tajani un passo in avanti verso una vera difesa europea. E tra le motivazioni ha spiegato le conseguenze anche economiche degli attacchi per l'Italia, il cui export rappresenta circa il 40% del prodotto interno lordo. Ottimista l'alto rappresentante dell'UE Borrell, intanto a causa dei ripetuti attacchi dei ribelli uti, il trasporto marittimo di merci nel Mar Rosso, che rappresenta circa il 20% di quello mondiale, è crollato nel 2024 del 90%. Intanto a Gerusalemme stamattina un gruppo di amici e parenti dei 130 ostaggi di Hamas ha fatto irruzione nella sede del Parlamento per chiedere a Netanyahu di riportare a casa i prigionieri israeliani. Massimiliano Cocchi Il governo israeliano sta lavorando a una nuova iniziativa sugli ostaggi. Il Premier Netanyahu lo dice a parenti e amici delle 130 persone ancora prigioniere a Gaza, senza però spiegare quale sia la proposta. Dopo essersi accampati ieri sera davanti alla casa del Premier a Gerusalemme, questa mattina un gruppo di familiari degli ostaggi ha fatto irruzione in Parlamento interrompendo una seduta della Commissione Finanze. Cosa state facendo? Riportateli subito a casa. hanno urlato ai deputati presenti, chiedendo le dimissioni del governo in nuove elezioni. Netanyahu viene accusato di non voler trattare la liberazione degli ostaggi e di puntare solo sull'offensiva militare. Sullo sfondo delle tendopoli improvvisate di Khan Yunis, le alte colonne di fumo confermano l'avanzata delle forze israeliane, che sono ormai a poca distanza dal mare. L'ospedale al Nasser sarebbe completamente circondato, così come l'Università di Al-Aqsa. La Mezzaluna Rossa ha denunciato che il proprio personale sarebbe bloccato all'interno della sede, circondata dai carri armati e da cecchini appostati sui tetti degli edifici vicini. Fonti locali sostengono che lì ci sarebbero migliaia di sfollati che non possono più fuggire. A far discutere oggi, però, è anche la proposta che il ministro degli esteri israeliano, Kaz, ha rilanciato nel corso del suo intervento al Consiglio dell'Unione Europea, quella cioè di costruire un'isola artificiale davanti a Gaza, dove realizzare il porto e altre strutture fondamentali, e ipotizzando che su quest'isola i palestinesi di Gaza potrebbero anche andare a vivere. Un'idea, riferiscono i presenti, accolta con gelo dai ministri europei. È morto Gigi Riva, miglior marcatore di sempre della nazionale italiana, con 35 gol e bandiera del Cagliari. Marino Galdiero. Rombo di tuono se n'è andato. Il leggendario Gigi Riva prese quel nome con la maglia del Cagliari dello Scudetto dopo la partita al San Siro contro l'Inter vinta dai Sardi per 3-1. Protagonista assoluto della partita realizzò una doppietta, un soprannome che esprimeva al meglio le sue doti, potenza del tiro da fermo in corsa, forza fisica, la capacità di farsi spazio nelle aree affollate. È stato uno dei più grandi attaccanti del calcio italiano. Aveva 79 anni, da ieri era ricoverato in cardiologia all'ospedale Brozzo di Cagliari per un malore. Il primo bollettino parlava di condizioni generali stabili, ma poco dopo Gigi Riva ha avuto una nuova crisi. Era stata fatta l'ipotesi di un intervento al cuore, poi la notizia della morte. Nella lunga carriera non si può dimenticare il ruolo avuto nella nazionale italiana, sia come giocatore, si pensi ai mondiali del Messico, che come dirigente. Zoff dice, perdo un grandissimo amico, una tristezza infinita, sono profondamente addolorato. Ha condannato i giudizi sommari senza appello e misericordia Donenzo Raimondi durante i funerali di Giovanna Pedretti. La donna finita al centro di un caso mediatico per una recensione sul suo ristorante. Raffaella Frullone. A Sant'Angelo Lodigiano oggi è stato il giorno del lutto. Un migliaio le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta otto giorni fa, probabilmente suicida, nel greto del fiume Lambro. Le esequie nella Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove per volontà della famiglia le telecamere non sono state ammesse. Ma anche fuori, i giornalisti vengono tenuti lontani. Un grande striscione, lo stesso che era comparso nei giorni scorsi vicino alla casa della donna, è stato allungato all'uscita della barra per cercare di proteggere dagli obiettivi quel che resta di un'intimità prima celebrata e poi denigrata. Dolore e clamore, due parole così assonanti e dissonanti allo stesso tempo da produrre note stonate che abbiamo dovuto, nostro malgrado, ascoltare in questi giorni. Così, Donenzo Raimondi, nell'Omelia in cui ha parlato anche di illazioni pesanti come Macigni, riferendosi alle accuse di aver falsificato la recensione che l'aveva fatta prima, finire sotto i riflettori e poi bersaglio di alle accuse. La barra esce sulle note di Kill the War di Michael Jackson. Palloncini bianchi salgono al cielo mentre la famiglia chiede di non lasciare fiori e ancora una volta di rispettare il loro dolore. In Germania adesso, dove il partito di estrema destra Alternative for Deutschland pensa a un referendum per portare il paese fuori dall'Unione Europea. Luciano Piscaglia. La Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è stata assolutamente giusta ed è un modello per la Germania. Ad affermarlo è stata Alice Weidel, la leader del partito di estrema destra tedesco Alternative for Deutschland, che in un'intervista ha espresso l'intenzione di promuovere anche in Germania un referendum analogo, se il suo partito non riuscirà a riformare l'Unione Europea. Una dichiarazione che ha scosso profondamente il paese dove i partiti tradizionali sono filo-europei e i sondaggi rivelano che un'ampia maggioranza di tedeschi, se chiamata ad esprimersi, voterebbe per restare nell'Unione Europea. Il partito di estrema destra ha registrato però una forte impennata dei consensi ed è dato al 22% davanti a socialdemocratici, verdi e liberali, i tre partiti che fanno parte della coalizione del cancelliere Olaf Scholz. Nessun'altra formazione politica accetta comunque di fare accordi con Alternative for Deutschland, duramente contestata anche nelle piazze dove nelle scorse settimane oltre un milione e mezzo di persone si sono radunate contro l'estrema destra. Ora le provocatorie affermazioni della Beidel scaldano ulteriormente il clima sociale e politico tedesco già approvato dalle numerose manifestazioni dell'ultimo periodo. Entriamo in Italia con la cronaca esclusa l'ipotesi dolosa per le esplosioni nel termo valorizzatore gestito da Air Ambient al confine fra i comuni di Riccione e Coriano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere l'incendio. Tre i feriti di cui uno grave e la procura di Rimini aprirà un fascicolo. Un altro incendio in un'azienda a Cavenago di Brianza in Lombardia. Clara Iatosti. Dalla Planet Farms di Cavenago un fumo denso continua a levarsi. Sono bruciati i pannelli di coibentazione dell'azienda agricola che produce insalata e ortaggi biologici coinvolgendo nel rogo alcuni capannoni dell'aria ed ora preoccupa il rischio ambientale. Anche gli automobilisti in transito sulla Milano-Bergamo sono stati investiti dalla nube nera generata dalle fiamme ed il fumo è rimasto visibile ore a distanza di diversi chilometri. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con cinque autobotti autoscale. Sono arrivate da Sesto e Monza più tre squadre da Milano. La situazione si è sotto controllo. C'è stato questo incendio in questa azienda e quindi il fumo nero che si sta sprigionando il prodotto della combustione di questo materiale plastico. Il grosso è stato spento ma adesso ovviamente dobbiamo procedere allo spegnimento minuzioso di tutti i pannelli che stanno bruciando e quindi questo richiederà un po' di tempo. Per precauzione il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli dal luogo dell'incendio ha invitato i residenti nell'aria a non aprire le finestre in attesa di avere maggiori informazioni dalle autorità dopo le verifiche dell'ARPA, l'azienda che cura la sicurezza ambientale. La compagnia dei carabinieri di V-mercate è sul posto per rilievi di indagini. Per fortuna non si registra nessun ferito. In India adesso dove sulle macerie di una moschea è nato un tempio hindù. A inaugurarlo il primo ministro Modi, Paolo Fucili. Il gran giorno atteso decenni è arrivato ad Ayodia in India. Oggi il Dioram ha il suo nuovo tempio costruito senza badare a spese e inaugurato dal primo ministro Modi. Fino al 92 qui c'era una moschea distrutta così da una folla di fanatici perché innalzata secoli prima su un altro tempio hinduista e l'ondata di violenza così innescata fece duemila morti in tutta l'India. Ma che colpa avevamo? Si chiede a un musulmano di Ayodia a cui bruciarono la casa. Un santona hindu invece dice di non essere mai stato così felice prima. Presto in India si voterà. E il premier Modi al potere da dieci anni ha iniziato di fatto così la campagna elettorale e secondo molti indiani con una carezza all'elettorato nazionalista e fondamentalista ostile anche alla minoranza cristiana. Appendete bandiere color zafferano simbolo dell'induismo su case e palazzi. Si era raccomandato per oggi Modi e c'è anche chi ha pensato bene di sarle sulle chiese racconta l'agenzia cattolica Yucanews. Raccontare la verità senza clamori inutili è l'invito del Papa che oggi ha incontrato i vaticanisti. Cristiana Caricato. Essere giornalista è una vocazione. Un po' come quella del medico che sceglie di amare l'umanità curandone le malattie. Papa Francesco accoglie nella Sala Clementina in Vaticano alle 8 del mattino i vaticanisti. La comunità che lo segue in giro per il mondo, racconta il suo magistero, si occupa quotidianamente di narrare la chiesa, la sua bellezza e le sue ferite. Clima familiare e siete di casa, ammette il Pontefice, che si scusa persino per la levataccia a cui ha costretto corrispondenti e giornalisti di tutto il mondo, ma anche gratitudine per il lavoro che sottrae tempo alla famiglia per le domeniche giorni di festa passati in redazione in Piazza San Pietro. Il Papa ringrazia anche per la delicatezza nell'affrontare gli scandali e le piaghe delle chiesa. La bellezza del vostro lavoro attorno a Pietro è quella di fondarlo sulla solida roccia della responsabilità nella verità, non sulle sabie fragili del chiacchieriggio. In mattinata anche l'incontro con i discepoli di Don Milani nel centenario della nascita del prete di Barbiana. Il ricordo di Don Lorenzo, mente illuminata e cuore aperto, lo definisce il Papa, che ne ricorda la passione per gli ultimi e la capacità di non escludere nessuno contenuta nel motto I care. Non è un generico, mi importa. Accorato, mi importa di voi. Una richiarazione esplicita di amore per una piccola comunità. Nello stesso tempo è il messaggio che ha consegnato ai suoi scolari e che diventa un insegnamento universale. Sempre oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente della Repubblica Democratica di Timor-Est, Rita Salerno. 35 minuti è durato il faccia a faccia tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Democratica di Timor-Est, José Manuel Ramos Horta. Il capo di Stato, giunto ieri a Roma dopo il colloquio, ha fatto dono al Papa di un telo tipico dell'isola, raffigurante l'immagine dello stesso pontefice ed un rosario con pietre di sandalo oltre al pregiato caffè locale, mentre Bergoglio ha contraccambiato con una scultura in bronzo che rappresenta la fraternità e un libro sull'appartamento pontificio. Poi Ramos Horta ha incontrato in segreteria di Stato il Cardinale Parolin e Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali con i quali si è soffermato sulla situazione economica e sociale del Paese senza dimenticare il contributo offerto dalla Chiesa Cattolica per il bene della comunità. Già a partire dagli anni 70, quando l'isola dopo la colonizzazione portoghese era divisa tra le forze armate indonesiane e la guerriglia che combatteva per l'indipendenza. Risale all'ottobre del 1989 una visita di Giovanni Paolo II che celebrò messa nella spianata di Tassi Tolu ricordando la sofferenza della popolazione a causa della privazione dei diritti fondamentali. Ottant'anni fa lo sbarco di Anzio Nettuno da parte degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Per Luigi Vito. Nella notte tra il 21 e 22 gennaio del 1944 le forze anglo-americane occuparono il mare davanti alle coste immediatamente a sud di Roma e lo sbarco sul litorale di Anzio cominciò come meglio non si poteva sperare per entrare in una nuova fase della guerra. Perché lo sbarco di Anzio? Perché gli alleati erano rimasti fermi, non riuscivano a procedere perché la linea Gustaf con i tedeschi, che era molto bravo nel tenere la linea, impediva l'avanzata degli alleati. Quindi non riuscendo gli alleati a procedere rapidamente verso Roma e nord Italia come avevano immaginato di fare, ci fu la decisione di procedere con lo sbarco ad Anzio che era a nord della linea Gustaf, a nord di Tassino e quindi si sperava di poter raggiungere molto rapidamente Roma. All'inizio tutto procede per il meglio, i reparti nazisti presi di sorpresa vengono fatti prigionieri, i centri maggiori, Anzio e Nettuno, sono occupati dalle truppe alleate ma l'avanzata si ferma. Perché le indicazioni che erano state date ai militari americani erano abbastanza generiche non avevano neanche capito bene cosa dovessero fare e soprattutto i tedeschi opposse una resistenza feroce. I nemici riorganizzati sin fretta faranno affluire al fronte circa 70.000 uomini. Ci vollero oltre 4 mesi di combattimenti per arrivare alle porte di Roma e migliaia di vite spezzate. 7.000 caduti tra gli alleati, sepolti nei cimiteri anglo-americani di Anzio e Nettuno, altri 5.000 tra i soldati nazisti. Perché ogni guerra, anche se vinta, è una semina di morte. Ci fermiamo qui, il telegiornale torna domani mattina alle 8.27 circa. Buona serata.